Mobilità sostenibile, turismo esperienziale, green economy, workshop e show sono gli ingredienti della sesta edizione di Ecomob, il primo grande evento di cultura sostenibile del centro sud Italia. A Pescara dal 12 al 14 maggio, dalle 10 alle 21, con ingresso gratuito, sono previsti expo, incontri con le scuole, momenti dedicati alla sicurezza stradale e alla formazione. Forte dei numeri delle edizioni precedenti, con più di 50.000 visitatori, 250 espositori e oltre 20 workshop rivolti ad esperti del settore, a curiosi e simpatizzanti, Ecomob conferma la formula e annuncia le novità. Ce ne parla uno degli organizzatori, Gianluca Gian Lorenzo, della Ecolife Eventi e Comunicazione Sociale APS. La nostra manifestazione si propone come punto di incontro tra la pubblica amministrazione e tra i cittadini, tra i visitatori, in quanto le tematiche che noi rappresentiamo, che noi offriamo, che presentiamo, sono tematiche di assoluta attualità, che vanno incontro alle direttive anche europee nel campo della sostenibilità, quindi della mobilità sostenibile, dell'efficientamento energetico e anche del turismo sostenibile. Un'ampissima esposizione di prodotti e servizi legati alla sostenibilità e alla mobilità sostenibile, appunto con quasi la totalità dei brand dell'automotive, ma anche scooter elettrici e bike e un programma abbastanza corposo di convegni e spettacoli. Quest'anno abbiamo voluto regalare ai nostri visitatori, a chi verrà a visitare il nostro evento, uno spettacolo di uno dei comici di Zelig, Diego Parassole, che ormai è anche diventato formatore aziendale e propone uno spettacolo sulla sostenibilità. Si chiama Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho nulla da mettermi.